La tua ramma è pesante come un incudine? Il tuo pc arranca come una locomotiva? Nessun problema, andiamo a svuotare la stand-by list. Non sai cos'è? Te lo mostro subito. E quindi, se ti senti pronto, iniziamo. Disclaimer, i contenuti di questo video sono esposti a puro scopo informativo ed educativo. Andiamo avanti, va? Abbiamo già presentato in passato dei software che promettevano di fare miracoli come Memred Act oppure Wise Memory Cleaner. Ebbene, in parte i miracoli li hanno fatti, ma erano innanzitutto dei software di terze parti ed, in secondo luogo, con gli ultimi aggiornamenti di Windows, iniziano a creare problemi su qualche computer. E allora ho pensato di fare una cosa, di prendere un programmino fatto già direttamente da mamma Microsoft, ma automatizzarlo alla maniera nostra, in modo da tenere la nostra RAM sempre pulita, senza bisogno di preoccuparcene oltre. Non dovrai più fare nemmeno un click. Andiamo a vederlo. Prima regola del gentiluomo digitale. Recupera subito tutti gli strumenti di cui hai bisogno. E allora, andiamo a metterla in pratica. E quindi apriamo il nostro browser e nel motore di ricerca andremo a digitare, come sempre, gentiluomo digitale. Ok, ecco fatto. Facciamo la nostra ricerca e facciamo riferimento al primo risultato, ovvero quello relativo al dominio gentiluomodigitale.it. Clicchiamo per aprire il sito e, una volta che si sarà aperto, ci porteremo qui in alto su questa sezione, quella che si chiama Downloads. Una volta che si sarà caricata la nostra pagina, scendiamo un pochino più in basso fino ad individuare questo download qui, quello che si chiama RAM Map. Nel caso in cui tuttavia non dovessi riuscire a trovarlo, niente paura. Catafiondati immediatamente sulla lente di ingrandimento in alto a destra, facci un bel click e al suo interno digita per l'appunto RAM Map. Premi invio sulla tua tastiera e vedrai che il software che stai cercando ti apparirà in un batter d'occhio. Fai un bel click sul nome RAM Map per andare a scaricarlo e in pochi secondi vedrai che si troverà già sul tuo computer. A questo punto premi questo pulsantino per aprire la cartella in cui siamo andati a scaricarlo e potrai anche chiudere la finestra del browser retrostante che ora non ci serve più. Quello che dobbiamo fare adesso sul file che abbiamo scaricato è un bel click con il pulsante destro seguito da un click sulla voce Estrai tutto. Clicchiamo sul pulsante Estrai per procedere con l'estrazione e potremo accedere al contenuto completo del pacchetto regalo che abbiamo preparato per oggi. Andiamo a vedere un attimo nel dettaglio di che cosa si tratta. Il primo file empty standby list è in realtà semplicemente uno script che si appoggia ad un programma Microsoft per andare per l'appunto a svuotare la cosiddetta standby list che vedremo tra un attimo che cos'è. Il secondo file che si chiama installa.bat è il file di installazione anche se non si tratta di una vera e propria installazione trattandosi di un programma portable ma va semplicemente a spostare i file che ci servono in una determinata cartella del pc. Il terzo RAM optimizer altro non è in realtà che è una importazione di un settaggio nella nostra utilità di pianificazione. Non ti preoccupare perché poi ti spiego tutto quanto passo passo. Ed infine abbiamo il programma RAM Map della SIS Internals. SIS Internals che in realtà altro non è se non un'azienda che appartiene a Microsoft e fa dei piccoli software di utilità per suo conto. Nella fattispecie se andiamo a cercare sotto la voce informazioni di sistema troviamo per l'appunto il programma RAM Map che come puoi vedere appartiene direttamente a Microsoft. Ma che cosa fa il programma RAM Map? Ecco se andiamo ad aprirlo ci accorgiamo che il programma RAM Map altro non fa se non darci una mappatura completa come dice il nome stesso di tutta quanta la nostra RAM sul pc. Andando ad esempio a cliccare su file details possiamo vedere proprio a colpo d'occhio quali sono le applicazioni in esecuzione sul nostro pc comprese tutte quelle nascoste e tutti quanti i processi che occupano la maggior quantità di RAM. Ma questa naturalmente non è l'unica cosa che il nostro RAM Map sa fare. Per capirlo meglio però premiamo la combinazione di tasti CTRL, SHIFT e DESK e apriamo il Task Manager o gestione attività che dir si voglia. Al suo interno spostiamoci su prestazioni, scegliamo la voce memoria e diamo un'occhiata a questo valore cache 4,3 gigabyte. Che cosa vuol dire questo? Che la cache di questo computer è occupata da 4,3 gigabyte di dati. Ma che cos'è la cache? La cache è uno strumento che utilizzano i sistemi Windows che dovrebbe accelerare l'apertura dei programmi andando ad indovinare un po' alla cieca quali saranno i prossimi programmi che andremo ad aprire precaricandosi lì in memoria. Insomma uno spreco di RAM senza fine soprattutto su un computer come questo che dispone di 8 gigabyte in totale. Quindi quello che è occupato sono 4,4 gigabyte di memoria su 8 complessivi. Il nostro RAM Map può mettere una pezza a questa situazione e pensa, ripeto, che lo ha fatto la stessa Microsoft. Se infatti ci portiamo qui sulla voce empty e scegliamo empty standby list, guarda che cosa succede alla nostra cache. Come vedi la cache viene svuotata e da 4,3 gigabyte che era continuerà a riempirsi sempre di più fino ad assumere circa le dimensioni di 1 gigabyte e ci impiegherà circa un'oretta orientativamente a raggiungere la quantità precedente. Tuttavia non possiamo utilizzare RAM Map per porre rimedio a questa situazione perché letteralmente ogni 5 minuti dovremmo andare a fare questa operazione, cosa che capisci è veramente disagevole o meglio lo sarebbe. Se non fosse che grazie a questo script che ti sto presentando questa operazione, possiamo fargliela fare in automatico mantenendo sempre bella snella la nostra cache. Andiamo quindi a chiudere queste finestre aperte e all'interno della nostra cartella facciamo un doppio clic sul file installa.bat. Confermiamo con Esegui di voler eseguire questo programma e concediamo con sì i privilegi amministrativi. Che cosa ha appena fatto questo programma? Ha semplicemente creato una nuova cartella sul nostro disco C e al suo interno, ha copiato i file rammap.exe, empty standbylist.exe e ramoptimizer.xml. A questo punto premiamo un tasto per chiudere questa finestra, portiamoci sul nostro disco C e andiamo a vedere la cartella appena creata. Al suo interno, come promesso, ci sono i nostri tre file. Quello che dobbiamo fare adesso tuttavia è portarci qui in basso sulla lente di ingrandimento, cliccarci e andare a digitare all'interno della barra di ricerca utilità di pianificazione. Facciamo riferimento al risultato che si chiama proprio utilità di pianificazione e andiamo ad aprirlo. Che cosa fa l'utilità di pianificazione? Ne abbiamo parlato in un video precedente. Serve a pianificare in modo che noi possiamo farle in maniera del tutto automatiche una serie di procedure sul nostro computer. Al suo interno clicchiamo su libreria utilità di pianificazione in alto a sinistra e spostiamoci sulla grande finestra bianca in alto al centro. Facciamo un clic con il pulsante destro del mouse e scegliamo la voce Importa attività. Nella finestra che si apre ci porteremo qui su disco locale CI e sceglieremo la cartella che abbiamo creato, quella che si chiama RAM Optimizer. Facciamo doppio clic per aprirla, scegliamo l'unico file che ci viene mostrato al suo interno e clicchiamo sul pulsante apri. Nella finestra che si apre clicchiamo su ok. Che cosa abbiamo appena fatto? Abbiamo creato un task completamente automatico sul nostro pc che ogni 5 minuti senza che noi ci accorgiamo di niente va a svuotare utilizzando il programma Microsoft che ti ho mostrato la nostra cache liberando memoria e facendo volare la nostra macchina. Pur trattandosi di un software fatto in casa devo dire che compete alla grandissima con i suoi colleghi professionali e più blasonati ed in più utilizzando solo ed esclusivamente ribadisco materiale Microsoft ha una compatibilità assoluta con gli ultimi aggiornamenti con Windows 10 e con Windows 11. Ragion per cui se ritieni che possa essere utile a qualche tuo amico non esitare a condividere questo video. Ma veniamo ai ringraziamenti del giorno che quest'oggi sono tutti solo ed esclusivamente proprio per te che hai guardato questo video mi hai fatto compagnia nel corso di questi minuti e detto questo non mi resta che salutarti e darti come di consueto appuntamento alla prossima. Iscriviti!